Però vista anche la tua reazione, a volte anche insomma i tuoi comportamenti abbastanza sopra le diche, quale altra sostanza c'è in quei biscotti? Non c'è nemmeno il lattosio, non c'è né glutine né lattosio, quindi sarà questo da me. Comunque, siano andate le cose, poi non soffermiamoci più sul biscotto per cortesia, perché adesso voglio andare da Antonio e da Sosso. Mi vergogno profondamente, chiedo scusa. Ecco, questo volevo sentirti dire, insomma, non è stata, ne convenite sia tu che Fernanda che non è stata una bella scena? Guarda, io sono molto imbarazzata, però ormai è fatta, per cui non c'è rimedio, però mi vergogno profondamente. E fai bene. E mi scuso. Perdonami se interrompo al tuo giudizio. Beh, mi piace, scusate anche, che si sia scusata, io vorrei, scusa Antonio, tanto adesso vengo da te, vorrei che come si è scusata Antonella si scusasse anche Fernanda, con il pubblico a casa. Ho appena detto, idem, sono d'accordo con lei. Ecco, grazie Fernanda, perché non avevo sentito. No, idem, sono d'accordo con lei, terribile, pessimo, di cattivo gusto, scena da cancellare, mamma mia. Ok, cerchiamo di non farlo più, veramente. Scusate a tutti. Grazie.